Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio della Mistocraft Allora ragazzi fuori dalla porta c'è Gigi Giovanni Gennaro Voi direte perchè ha questi nomi? Ve lo faccio vedere Guardate la Gigi Da dove è uscito questo? Parla solo con la G Si chiama G Lui si chiama G ragazzi ve lo presento Iscrivetevi al suo canale Che cavolo vuole con la pallina? Goodbye Vabbè è moruto Bene 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 Allora continuiamo subito col nuovo let's play Dobbiamo fare oggi Dobbiamo fare C'è un sacco di roba Dobbiamo fare questa roba qui La gemma che vi avevo promesso fare gli andati Allora ci servono 4 diamanti e 4 dark matter che si fanno in questo modo Blocco di diamanti eccetera Andiamo a trovare un bel po' di diamanti Vediamo un po' che abbiamo chi drento chi Oh 19 diamanti Poi andiamo a vedere chi abbiamo lì drento chi fuori lì Corri corri Vediamo un po' qua che abbiamo Oh 14 diamanti Bene 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 Molto bene bene Molto bene bene Molto bene bene E dai per messica Aia chi è? Madonna che spavento Allora facciamo subito Facciamo subito Vediamo quanta energia abbiamo Dove cavolo è il cosi Chi? Bene dobbiamo prendere questo Come si chiama ragazzi? Come faccio a prenderlo adesso? Forse col diamante Col diamante dicete che ce lo farò? Si eccolo qua Ci servono questi qua Allora ce ne servono un bel po' Ce ne servono un bel po' Come faccio a prenderli? E dai Un altro Un po' che parola di questi qua equivalgono a un diamante Me ne servono 8 E un blocco di diamanti Allora mi servono 4 Mamma Mamma Che macelle Vediamo un po' Dov'è il talismano qua? Il talismano è Qui Allora 5 diamanti più 9 9 9 9 18 23 diamanti Per cui me ne avanzano 10 Facciamo così Ok questi 10 si possono rivendere Voilà E possiamo prendere Ma va a farti fotoro Dana perché sono così pirla porca trota E mo? Uffa però Per 27 non posso 24 9 18 27 Perfetto Ok siamo a 13 Ne mancano ancora 3 Per arrivare a 16 Andiamo a prendere Un po' di energia Ragazzi 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 una cosa importantissima Non perdetevi Il live Se riesco questa sera Dovrei fare un live Non perdetevelo Perché ci saranno In diretta Le nomination Dell'isola di famosi Mi raccomando Ok Andiamo di lì Me ne servono ancora 3 Vediamo se ce la facciamo 15 Ne manca uno Ne manca uno Ci penso mi Ok Vendo un blocco Di nicolite Lì come cavolo si chiama Et voilà 16 Perfetto Allora facciamo 2 blocchi di diamante 2 blocchi di diamante 1 1 2 Perfettico Poi li mettiamo intorno Questi qui E facciamo i red matter I dark matter Scusatemi Dovrebbe costare 139.000 Perfettico Li abbiamo fatto imparare Ora 2 Dove cavolo sto andando Qua 2 Dark matter 5 diamanti E poi serviva 2 Ah Ossidiana 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 1 E 1 4 Corri 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 Perfettico E olè La gemma Of eternal Detentate Sini Ora Dobbiamo fare Un'altra cosa Mi servirà un diamante Dobbiamo fare un alchemic chest E voilà Fatto anche questa Bene 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 Andiamo andando anche tardi Andiamo andando anche le tardi Buongiorno signori Buongiorno Andiamo fuori fuori O dentro dentro Vediamo un po' se c'è qualcuno No Si Un'altra cosa ragazzi Sotto i video Cioè continuate a seguire la serie Dell'isola di non famosi Sotto i video Anche del live Troverete tutti i canali Dei partecipanti E seguite anche loro Perché metteranno i loro confessionali Nei loro canali Allora Qua c'è tutta la chest piena Nessun problema Li mettiamo l'alchemic chest Li mettiamo l'alchemic chest Madonna Che vuole questo Ma non vedete che sto lavorando No Vediamo un po' come fare Allora Tanto poi la sposteremo Non è un problema La mettiamo qui E voilà Dovrebbe ricominciare Si perfetto Perfetto Ok Oh guardate ragazzi Una pietra unica E la finite oggi? Porca trota Oh bistecche no Ok Dobbiamo spostare Tutta questa roba sotto La sposterò con calma Intanto si sta iniziando a riempire Ora mi sembra che 8 stack di pietra O 4 stack Diventano un Lingotto di ferro 8 lingotti di ferro Diventano Un lingotto d'oro 4 lingotti d'oro Un lingotto di diamante E così via Fino a fare i red matter I dark matter E poi i red matter Tutto grazie a questa gemma Guardate Tankete Ora aspetterà la quarta Il quarto stack E poi partiranno E poi partiranno Siamo già a tre lingotti di ferro Che fighetta Che fighetta Allora 1 2 3 4 Facciamo qua Perfetto ragazzi Credo di avervi fatto Lasciate stare Che l'è meglio Credo di avervi fatto vedere tutto E vi dico che Da Luke è tutto Seguite il live di questa sera Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti